Oltre 100 persone nelle ultime settimane sono state denunciate per usura e distorsione ai danni di piccoli imprenditori e famiglie in difficoltà economiche. A rendere noto come lo scenario relativo al fenomeno dell'usura nella provincia di Bari si è diventato sempre più allarmante, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria e la Guardia di Finanza. A finire sotto rallente di ingrandimento di militari, oltre al capoluogo pugliese, ci sono i comuni più forti economicamente, cioè Corato, Monopoli, Conversano, Trigiano e Rutigliano. Tra i presunti usurai, figure riconducibili a sudalizi mafiosi storici della città e dell'area metropolitana, schierate accanto ad esponenti della cosiddetta usura di prossimità, nuovo fenomeno criminale che fornisce porta a porta soldi sporchi, sicuro provento di illeciti o di evasione fiscale a persone in difficoltà economiche. Le attività investigative, a seconda dei casi, sono state avviate dopo le denunce delle vittime. Lo schema del rapporto usurario di massima è sempre lo stesso, contanti contro contanti, con assegni cambiali o preziosi, dati in garanzia o cambi di assegni. La vittima riceve un assegno in bianco emesso da un altro soggetto usurato e consegna a sua volta all'usuraio un suo assegno sempre in bianco, maggiorato nell'importo dell'interesse. Il volume di affari stimato è di circa un milione di euro, con l'applicazione di tassi di interesse mai inferiori al 50%, con punte di oltre il 4.000% annuo.